mia 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 e mia questo quello visto anch'io devo dire che subito per te un originale sorpresa questa è mia questa è il suo cavallo un ciao un ciao un ciao e la mamma fa vedere un attimo l'ho detto fai vedere no Lidia è la cattiva ah Lidia è la cattiva non era la regina ancora la cattiva con la faccia brutta vediamo cosa c'è dentro il luogo di Mia che è un'elfa giusto? e anche il suo mare e anche il suo mare oh il luogo pronto per essere frantumato quando l'abbiamo a che sticca è la forte allora vediamo un po' che c'è non capiamo aspetta 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 ci vuole una forbice vediamo cosa abbiamo questo è diverso da quelli che avevamo aperto in precedenza molto forte eh se no ci tagliamo le mani guarda un po' cos'è anche no un po' carino la fascia no bella no bella strabella mettila un po' ma no ma non così beh così un po' da da figlia di tio si un po' da figlia di tio no bella da scuola per quando devi fare i compiti ah beh è un sostitutivo dell'ottocerchietto bello bello davvero bellissima bellissima carina che carina bello bella sorpresa com'è il cioccolato? il cioccolato è direi il latte e il latte come al solito pezzo anche per me ok bene buono ci è piaciuto bello bella sorpresa sono bella bene ci rivediamo con un calco di pezzo magari di uovo di ciao uovo di? che peschiamo questo personaggio? da lei allora aspetta 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 ok hai visto che c'è la maschera? c'è anche la maschera poi te la provi dai maschera già no ma dai carina carina che bella brava dai bellissima la maschera ok dai 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 possiamo aprire apriamo apriamo effetto allora super giga che uovo aspetta 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 che ci macchiamo completamente metti giù per terra qua così vai apriamo questo uovo dai un bel uovo uovo bello cosa c'è? cos'è sta forse? aspetta aspetta eh no eh ma te lo mangi già? eh sì hai capito è un magnetino un magnetino un magnetino è un magnetone eh sì c'è un magnetino scusami un magnetino di doremont foto frame magnet ah sì si si stacca ah ok si stacca così e te lo attacchi da qualche parte ah sì lo attacchi al frigo praticamente ahah vabbè intanto lo attacchi al frigo? va bene basta a mangiare il cioccolato? mh ok questo qua non so questi qua anche sono carini cosa abbiamo qua? Sofia la principessa mmm molto bella ce la siamo scuolata con un sacco di cose eh sì questa qua l'abbiamo vista un bel po' di volte la principessa Sofia ecco qua l'ha vista anche papà qui prendiamo allora cerca di non tagliarti una mano se no siamo quasi se no ci tocca andare a gaslight allora vediamo un po' scuoti 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 c'è? una sorpresa molto grande molto grande vabbiamo vai allora vai che roba un puzzle hai spabolato hai veramente spabolato si l'hai veramente spabolato ormai con quel pugnetto lì eh allora vedere si è un puzzle decisamente un puzzle si deve essere anche così la degustamenta vediamo come diventa la degustazione eh comunque si dice si se ti sente la maestra dire queste cose si bisogna che la teniamo all'oscuro di questi video perché sennò ci da la nota anche a noi eh ok praticamente diventa così vedere i pezzi questi i nostri pezzi con carino carino vero? ci puoi assaggiare? ci puoi assaggiare? degustamento 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 oh sempre al latte sempre al latte sempre buono della qualità di questo coccolato ci piace Snoopy 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 è un personaggio mitico di quando insomma ero piccola io c'era già quando ero piccola c'erano i cartoni io l'ho vista solo 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 l'hanno fatta anche il film che lo fanno vedere in tv guarda che già quando ero un pazzetto di Snoopy che è da appendere che è da appendere sì al collarino al collarino e si può appendere vediamo qua Snoopy non è niente c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è un cane il dico di Charlie Brown Charlie Brown lo possiamo andare a vedere senti un po' c'è stronolo un po' senti un po' scuotilo eeeeeeeeeee vai dovrebbe essere bello sei stato esperto non devi aprire e questo potrebbe essere addirittura un portafiavi allora vediamo un po' vediamo un po' che cosa è ah c'è un altro ah ce ne sono addirittura due wow un portafoglio un portafoglio un portafoglio carino un portafoglio di Snoopy bello carino che non sappiamo mai dove mettere i tuoi soldi i tuoi risparmi da di quando la fattina ti porta i denti si 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 bello bello così al prossimo il prossimo dentino che cade la fattina te li mette direttamente dentro il tuo portafoglio di Snoopy quindi mettiamo lì il dente col portafoglio di Snoopy eh allora assaggio del cioccolato un momento dell'assaggio buono un momento clou eh questo qua praticamente per me condivisione grazie al latte al latte buono? al latte buono? molto buono ti piace bene anche Snoopy Snoopy è andato Snoopy è andato salutone ciao ciao cosa abbiamo qua? abbiamo il libro della giungla vita alla giungla ahah che hai un cartone eh? si che tu guardi ahah ok di cosa parla questo cartone? scusa un po' ah sono degli animali parla della giungla degli animali della giungla questi qua come si chiamano? questi animali che ci sono qua? beh in realtà non lo dice la tv ah non lo dicono ah vabbè ah vabbè quindi vabbè soprassediamo su questa cosa vabbè che l'hai visto poche volte eh ma poi quando ho avuto sei anni ma l'intervista più a vedere ah ah lo vedevi per bambini da quattro anni ah per bambini eh c'è ma vabbè 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 se siete più grandi di quattro anni potete guardarlo perché sarebbe più periferente allora c'è qualcosa c'è qualcosa o allora o è troppo grosso eh oppure è rimasto incollato no adesso magari è rimasto incollato il cioccolato sai vai vai trova spaccato wow ah aveva lo stesso set ah anima lo stai anima bello allora stra bello per chi non avesse visto il video dei Minions anzi vi consiglio di guardarlo perché qua c'è il kit lo apriamo facciamolo vedere è veramente bello questo qua è veramente forte è certo è certo adesso direi che è fondente in realtà il latte lo mangio io? certo buono 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 mmm good guarda qua c'è aperta uno uno eh uno qual è? uno per buono mhm questo qua cos'è? il temperino? il temperino tieni gomma vita da giungla gomma vita da giungla gomma vita da giungla scotch specialissimo vita da giungla mmm e l'ultimo vita eh sì vita da giungla ehm matita 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 quindi c'è il kit completo scuola dita da giungla vabbè adesso adesso magari non mangiamocelo tutto in un ma no no ma ci eh fatele bravi eh fatele bravi va bene alla prossima puntata di uovi di Pasqua uovi di Pasqua va bene e uovi uovi ciao che ti sembra maestra si censurata ciao 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 ciao